Intanto volevo puntualizzare un pochino che ho letto delle interviste che ho fatto nel dopo partita di martedì dove sembrava io fossi particolarmente infastidito dalla partita fatta dalla squadra e sinceramente non è stato proprio così, ho detto solo che siamo stati fortunati nell'ultimo tiro che abbiamo buttato via un tesoretto perso poi nell'ultimo minuto ma io sono più che soddisfatto della partita vinta a Zagabria quindi giocare senza Joe Ragland a 46 ore dalla partita fatta con un viaggio lungo in quel di Zagabria ci manca solo che non sia soddisfatto quindi diciamo abbiamo sofferto troppo nell'ultimo minuto la gestione nell'ultimo minuto con due palle perse di Vai è stata un po' sanguinosa e questo ci poteva costare di dare il calcio al secchio con il latte pieno di latte dopo aver fatto un 39 minuti di attenzione di buona comunque di discreta palacanestro di grande dedizione ecco questo era per puntualizzare all'inizio il concetto di martedì per quello che riguarda Varese andiamo in un campo chiaramente sempre molto difficile perché la passione dei tifosi Varezzini è veramente altissima la squadra va bene va male il palazzo è sempre pieno ci sarà grande calore e giochiamo contro una squadra che in questo momento ha un attimo di diciamo ha perso qualche partita in verità le due partite fatte in casa del campionato le hanno vinte tutte e due giocando molto bene contro caserta vincendo a supplementare contro brindisi quindi fatto del campo in campionato per adesso l'hanno l'hanno ottenuto in maniera forte è una formazione che ha dei ragazzi molto giovani e grandissimo atletismo soprattutto nei enga e tra pellea nosiche hanno veramente tanti centimetri hanno esperienza tra cavaliero kangour giocatori interessanti come campani che stanno crescendo avramovici quindi una formazione sicuramente molto nuova sta cercando i propri equilibri fa degli sprazzi di pallacanestro molto buona alternata ogni tanto qualche giro a vuoto come succede in questo periodo di preparazione e noi recupereremo tutti perché ragland di ritorno dagli stati uniti siamo stati molto preoccupati per le condizioni della mano di di rating ma credo che non ci siano assolutamente problemi abbiamo escluso qualsiasi gravità dell'infortunio anche se la presa sulla palla è abbastanza difficoltosa ancora però ci auguriamo che da qui a domenica insomma possa avere una presa al pallone abbastanza forte abbiamo due giorni per preparare la gara ieri abbiamo fatto un giorno di così di mettere a posto alcune nostre cose tecniche soprattutto a livello offensivo abbiamo cambiato qualche spaziatura su qualche nostro gioco d'attacco ci pensavo da un po mi sembra che siamo venuti abbastanza bene oggi e domani pensiamo invece a preparare la gara prima di partire per valese mi sembra abbastanza chiaro che tutte le partite del campionato sono molto importanti questa avviene prima di poi una così una fila di partite partendo da regio sassari molto molto difficili e quindi insomma servono due punti che se dovessimo prendere ci ci danno la possibilità di rimanere incollati a milano e nella zona alta e mettere un passo per il mio primo obiettivo che ho sempre detto che quello di centrare del final 8 sì mi sembra che quest'anno il campionato si stia facendo stia facendo vedere che milano per adesso sta dominando però tutte queste squadre io credo che siano fatte da buoni giocatori mi sembra che il livello qualitativo dei singoli giocatori di ogni squadra sia sia abbastanza si sia un po più si sia alzato rispetto le ultime due stagioni adesso dipende che chi ha più fortuna chi è più bravo nel metterli insieme nel trovare la chimica giusta lo spirito giusto e loro hanno giocatori interessanti hanno giocatori interessanti hanno giocatori di talento per adesso ancora fuori casa hanno avuto un po più di difficoltà rispetto che in casa hanno se vai a vedere che hanno giocato un tempo supplementare contro brindisi però c'è una differenza abissale dei 92 punti fatti a partita in casa contro 72 fatti in trasferta quindi mi sembra che ci sia il fattore campo una qualche cosa di molto forte soprattutto il campionato